Trieste I è presente fuori dall'ingresso dell'Osi Felina di via Costalunga angolo via Brigata Casale in seguito alla decisione della giunta Cosolini di far spazio in questa zona al mercato ortofrutticolo andiamo dentro a intervistare il responsabile della struttura Giorgio Cocciani Giorgio Cocciani è responsabile della struttura gestita dal Gattile Ollus partiamo dalle funzioni della struttura ecco allora una premessa magari poter capire le cose chiaramente e subito qua purtroppo invece non si capiscono né chiaramente né subito allora io ho letto sul piccolo di questa cosa qua di questo eventuale trasferimento dell'Oasi la quale notizia naturalmente mi ha messo in grandissima apprezzione ho chiesto immediatamente delucidazioni sia al gabinetto del sindaco che all'assessore da pretto non ho ricevuto nessuna risposta e allora a questo punto desidero veramente capire se è in atto un tipo di trasferimento dell'Oasi perché io non la vedo così semplice come la fa la nostra amministrazione però può darsi che una soluzione ci sia voglio conoscerla, desidero sapere noi è vero che usufruiamo di questo terreno comunale però è altrettanto vero che il comune usufruisce di un servizio che secondo noi per la città di Trieste è molto importante un servizio che si è invidiato da tutta Italia ed è un servizio che poi oltretutto credo che per legge regionale dovrebbe essere effettuato in breve i comuni dovrebbero essere chiamati ad attrezzare delle oasi feline dei gattili sanitarie questa è bella e pronta, scodellata con soldi nostri tirati fuori con fatica l'associazione per fortuna li aveva e li ha messi a disposizione ricordiamo che per costruire questa struttura in legno che vedete qui dietro l'associazione al gattile ha speso circa 120.000 euro circa 120.000 euro di cui 10.000 la benemerita fondazione ha contribuito e 2.000 euro sottolineo 2.000 chi vuol capire capisce da parte del comune allora Giorgio qui sono 3.300 metri quadrati di struttura al di là poi delle case in legno che avete costruito voi come fareste voi a trasferire comunque 140 gatti oltre alla struttura che sono 120.000 euro di spesa iniziale comunque andrebbe rifatto in un'altra zona ma il discorso principale è quello sui gatti che sono territoriali comunque con animali sicuramente il discorso principale è la difficoltà di spostare 140 gatti è stato difficilissimo già portarli qua allora non dimentichiamo che questi gatti sono stati portati qua la maggior parte per ordinanza del sindaco perché creavano dei problemi cantieri di lavoro posti dove questi gatti perdevano il loro abitato e avevano bisogno di un ricovero il gattile si è sempre premurato di risolvere questo tipo di problema abbiamo detto noi usufruiamo di un terreno ma il comune usufruisce di un servizio quasi direi indispensabile soprattutto per una città che si dice zoofila come Trieste se c'è una spinta da parte della gente di grande sensibilità di grande amore per gli animali non abbiamo purtroppo la corrisponsione diciamo a chi di dovere che dovrebbe supportarci ed aiutarci a risolvere questi problemi noi diamo e facciamo quello che possiamo ma le nostre risorse sono limitate dire che con estrema facilità si sposta l'oasi a me sembra di un semplicismo di una mi scusi sindaco ma di una mancanza di conoscenza del problema proprio che sinceramente mi lascia molto mortificato e molto avvilito anche questa cosa secondo noi è sconcertante e demoralizzante e poi il modo come siamo venuti a conoscenza della cosa le istituzioni che non mi rispondano a una precisa domanda se la notizia è ufficiale è ufficiosa se è un'invenzione del giornalista lo so però ufficiosamente che c'è questa intenzione di fare questa cosa e sono sinceramente molto preoccupato io amo le nostre istituzioni perché noi abbiamo bisogno delle istituzioni però signori per cortesia un minimo di riconoscimento non dico riconoscenza ma riconoscimento esistiamo in qualche modo facciamo un qualche cosa dai il signor Cociani come ha già detto lui stesso ha scritto alle istituzioni per avere delle risposte ufficiali noi di Trieste Prima comunque restiamo a disposizione dell'assessore da pretto del sindaco chi per loro voglia dare appunto delle risposte visto che il signor Cociani non le ha ricevute per risolvere al meglio questa situazione non le ha ricevute non le ha ricevute non le ha ricevute